Beh, ho una bella notizia da darvi perché, niente, siamo contenti che siamo una bella e bella casa di produzione, stiamo diventando una casa di produzione nonostante non abbiamo casa, sino che siamo in un bosco di produzione, ecco, siamo diventati, insomma, siamo stati furbi. Ora vi racconto perché, un attimo, un attimo, un attimo, allora vi racconto. Ah, su, senti, beh, allora che è successo? È da circa parecchio che cerchiamo di chiedergli agli artisti che si presentano, che danno il loro contributo, vabbè, abbiamo pensato di dire, c'è, oh, su, ascolta, mi dai un po' di musica per passare senza diritti, senza questo, e, insomma, e quindi abbiamo deciso, no, la produzione è stata persuasiva con questi artisti e loro gentilmente doneranno, involontariamente, no, volontariatamente, ma, svogliatamente, doneranno i suoi brani perché noi possiamo ascoltare un po' di musica perché, no, mi sembra che ci sono troppe pause lunghe perché, in realtà, non abbiamo comprato, però invece, ecco, metteremo, per esempio, la musica del Calvario, eh, ve la consiglio, la metteranno a pezzettini, penso, no, cioè, pezzi, uno alla volta, pezzettini del Calvario, magari se riescono qui in montaggio, siccome abbiamo un po' di foto, magari facciamo una, una piccola edizione così, casera, eh, su, no, qui, le cose si fanno casalingamente, casalinghi, quello che si dice, vabbè, si fa in modo, il modo, il modo, ecco, quello, no, con due mani, come si fanno tutte le cose, poi, ecco, e vedremo se riusciamo a, a mandarvi queste piccole cosiddette, come si dicono, come, beh, ve lo mangiamo, non vi preoccupate, poi, ah, la Persefonia, potete cercare un altro bello spettacolo che non si è mai fatto, ma era bello da vedere, perché era molto bello, era, vabbè, sulle storie di Persefone, il mito che conosciamo tutti, il mito della primavera, e se no, cercate lì, Wikipedia, cercate in qualche enceplicopedia, senza dì nomi, e cercate Persefone e chi è, e vi dirà qualcosa, insomma, e poi quindi, niente, vi mettiamo che la musica è lì, va, su, ora ora ci impegniamo a, 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 a metterla in onda, radio in camboza, no, come era, radio, musica, camboza, e poi che era giungo, a musica.